Di salvezza è un'impresa disperata quella del Catania, tra l'altro il prossimo impegno sarà quello a San Siro contro il Milan. Oggi presentazione del nuovo allenatore Maurizio Pellegrino, ascoltiamolo. Io credo che queste sei gare alla fine di un campionato di Serie A siano tantissime, troppe, per poter pensare oggi di mollare, di non dare più tutto quello che è nelle potenzialità di questa squadra. Io credo che noi abbiamo il dovere, prima di tutto professionalmente, di dover portare a termine questo campionato nella maniera più giusta possibile. La società mi ha chiesto questo, di portare a termine un campionato, ripeto, dando tutti noi stessi, mostrando molto più senso di appartenenza e vivere la quotidianità degli allenamenti e poi di tutto il resto nella maniera più professionale possibile. Andare a San Siro e presentarsi come allenatore del Catania per me è veramente una cosa che mai mi sarei aspettato.